ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi parlerò molto brevemente del grandissimo allenatore che ci ha fatto fare il doppio salto dalla c alla che quest'estate praticamente si praticamente dopo che ha fatto questa cosa che poi comunque siamo anche retrocessi questo allenatore un po si è montata la capo e adesso se l'è di nuovo smontata quindi praticamente si monta e si smonta come un mobile no mobile lo monti e poi però in questo caso si smonta da solo e quindi lui si è smontato tutto bello eforico tutto bello io fa spacco la io faccio lì io porto il parma la io porto il parma così alla fine se l'ha pigliato ancora ovviamente bisogna ringraziarlo per la doppia promozione la retrocessione ovviamente è colpa di tutti colpa anche del virus colpa di tutti e di tante cose quindi vabbè inutile parlare però comunque fatto sta che poteva rimanere con un altro nuovo progetto e invece se l'è andato via questi cazzi di mal di pancia prima si può aspettato praticamente lecce che è stato come una festa che aspetta risposta solo alla fine l'ha mandato fanculo e poi andato lì ha parlato poi c'è stato un episodio pure che che uno disse che lecce retrocedeva e lui si è messo pure a ridere aveva fatto uno del non mi ricordo se forse sarà un baglio del parma che ho visto una chat del genere e si era messa a ridere gioco chiune insomma ringraziamo ovviamente liberani per quello che ha fatto però adesso è finita insomma io non mi piace diciamo gioire delle diciamo delle disgrazie altrui però se l'è cercata e se l'è meritata sta patosta quindi diciamo che la prossima volta ci pensano piccate fiate prima che dice così con lì eccola eccola comunque a parte questo altro diciamo episodio di falco e falco se c'è mal di pancia deve andare via ormai diciamo il ciclo è finito già da tempo lui vuole prendere tanti soldi e noi non glieli possiamo dare a parte tutto che non se li merita e poi non glieli possiamo dare e quindi può andare benissimamente al crotone e se gli danno più soldi è buon per lui insomma ora è inutile che rimane qua quindi non è nessun rancore va dove vuole andare vuole guadagnare più soldi e va lì via quindi quindi non ci sono problemi per quanto riguarda mancoso speriamo che rimane e ci sono diciamo delle sirene del cagliari ma qui il discorso è diverso perché diciamo e falco e qua è salentino e vuole andare via invece mancoso ovviamente di cagliari quindi se dovesse andare via non è lo stesso discorso di falco perché comunque mancoso a stra oronato onorato la maglia quindi scusate è a stra proprio al massimo proprio quindi non c'è nulla da dire ovviamente speriamo che rimane perché sennò su cazzi di cagare per noi nel senso per il leccio è che sostituire mancoso non è facile speriamo che rimane però se dovesse andare lì comunque magari finisce la carriera con il cagliari che ci può stare insomma dove è nato e la terra sua quindi non c'è nulla da dire giocherebbe in non so se giocherebbe titolare però comunque tornerebbe dove dove è nato insomma quindi non c'è nulla da dire speriamo ovviamente mancoso che rimani speriamo tantissimo però di prendere pisacane comunque un ottimo difensore il vecchia non lo conosco quindi speriamo che sia quello sarà una scommessa di mente di corbino perciò comunque speriamo bene quindi niente e ci vediamo al prossimo video ho fatto un video così giusto per dire un po la mia su queste cose che stanno accadendo ora visto che il campionato è fermo fatemi sapere se la pensate nello stesso modo cosa ne pensate di riverani falco mancoso eccetera e ci vediamo al prossimo video sempre ovviamente solo forza lecce bari merda tutta la vita sempre solo bari merda tutta la vita via